Alessandra Celentano senza limiti, la maestra di danza di Amici dice tutto quella che pensa, ecco le sue parole sui ballerini del Talent Show Anche in quest'edizione di Amici tra le protagoniste assolute c'è lei, Alessandra Celentano, da anni è uno dei pilastri della scuola del Talent Show, spesso sotto i riflettori per la sua forte personalità Le parole di Alessandra Celentano in una nuova intervista, davvero senza limiti, ecco cosa ha detto Sempre schietta e spesso antipatica a molti telespettatori, la Celentano non si è mai nascosta quando c'è da esprimere ciò che pensa, come dimostra in una nuova intervista, la maestra di danza davvero senza limiti, ecco cosa ha detto Alessandra Celentano senza limiti, dice tutto quella che pensa, le sue parole nella nuova intervista intervistata dal settimanale Oggi, come riporta anche il sito OGMAD Nez, la Celentano ha parlato a tutto tondo della sua esperienza come docente al Talent Show di Maria De Filippi, parlando anche dell'atteggiamento dei ragazzi Oggi i ragazzi sono più sgamati, più preparati a un'avventura di questo genere Ma quando chiedo, ti aspettavi fosse così duro? Mi rispondono, da fuori si vede che è pesante, ma non così tanto ha spiegato la Celentano Inoltre, la coreografa ha sottolineato come i ragazzi siano meno disposti al sacrificio, ma che allo stesso tempo si aspettano di arrivare subito a dei risultati e al successo L'intervista alla Celentano che dice come sempre ciò che pensa Invece la danza è un'arte totalizzante, che chiede dedizione assoluta Io da ragazzina mi allenavo per ore, rinunciavo a uscire con le amiche, non c'erano feste né weekend, solo lavoro e studio Ma i ragazzi non sono preparati psicologicamente a fare sacrifici E non è colpa loro ma di genitori e insegnanti spiega ancora Nel corso dell'intervista torna anche su un ex allievo, Stefano De Martino, a cui avrebbe predetto una carriera lontana dal mondo della danza L'avevo previsto Gli dissi, a te piace essere protagonista, vedrai che farai altro E così è stato spiega, mentre invece come allieva più talentuosa del talent show a livello di danza nomina l'indimenticabile ballerina albanese a beta Grazie per aver guardato il video Si prega di mettere mi piace e commentare la tua opinione per farci discutere di seguito Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video, ciao